Ciao Tudor, oggi per te è un giorno davvero importante, sei riuscito finalmente a raggiungere Sono dei 300.000 iscritti, no che grande, che si sono tanti grazie, ma questo c'è un milione 300.000, il carissimo santa claus che fa 300.000, tu, ma vaffanculo va, ma vaffanculo Non è uno scherzo, non è un prank, quel coglione è stato davvero a 300.000? Si, quanto pare si, e vuole pure il video, che ciula Ciao Claus, te lo dico in inglese che tanto non capisci niente Questo però l'ho capito Il tuo canale è troppo avanti, 300.000 iscritti sono veramente tanti, ma sicuramente conoscendoti Sopra il culo hai scritto vendesi, fallito Mi hanno chiesto di fare una clip per un certo Clavs con la V, ma io non so manco che cazzo è Tudor, lo sai che sono una persona molto schietta, che papà ti vuole bene e che il rapporto tra padre e figlio è molto importante E quindi per questo è importante che io ti dica determinate cose Vai un po' a cagare, trovi un lavoro vero, se vuoi, con qualche aggancio ti faccio entrare In banca? Alle poste, in una pizzeria, trovi un lavoro che ti piace, ma questo non è adatto a te Ma io ripensavo a quando tipo 5-6 anni fa ti ho spammato, ti ho pubblicizzato i primi video, i fatti i primi iscritti Ma io l'avevo fatto per pena, perché mi rompevi sempre i coglioni, com'è possibile che sei arrivato a 300k? Dunque, eccoci qua signor Klaus, mi hanno detto che hai fatto 300.000 iscritti Bene, peccato che non frega niente a nessuno No, veramente, perché 300.000 iscritti, cioè, 300.000 iscritti, non so niente Poi, in quanto le fatti, dopo anni e 300.000 iscritti, proprio, guarda, una merda Mi spiegate perché dovrei fare gli auguri a Klaus? Cioè, boh, non lo so Cioè, ho messo di scritto al suo canale quando lui faceva una serie sui mondiali E c'era lui che tipo, costantemente, ogni singola partita sbagliava, poi oltre, e parteva perché faceva troppe autocot Mi spiegate perché dovrei fare gli auguri a un coglione del genere, non lo so Ecco, e poi gli danno il premio rotto Complimenti, complimenti Un grande traguardo L'ambulanza qua, si sentirà l'ambulanza L'ambulanza qua, è per avvertirti che comunque, questo è un grande traguardo Cioè, 300.000 persone, sono tante, tu Però devi capire che io, ti sono ancora avanti Anche se non faccio video da un anno Ma Tudor, ma che cazzo fai? Ma perché piangi? Ma che cazzo fai? Ma sei mongoloide? Tudor, nessuno ti vuole bene, cerca di capirlo Cioè, guarda, sei uno dei pochi al quale veramente, cioè, non ci sarebbe mai dovuto arrivare a questi iscritti qui E poi comunque, cioè, già che ci siamo, ti devo dire una cosa, cioè, presente quest'estate, no, eh, la vacanza di Ibiza? Eh, quando dormivi, ogni volta che ti addormentavi, io ti scorreggiavo sotto al naso, ogni notte Sei proprio un poraccio Cioè, con quella faccia a carciofo, 300.000 Ma chi è veramente sto Klaus? Per farvi capire meglio, vi faccio un paracone È come una valchiria È figo? No Le tette? No, è inutile Klaus, lascia perdere YouTube, sai fare tantissime altre cose Ma sì, ma lascia stare, ma poi sei bravo A fare, cioè, come Cioè, di un sacco di cose, tipo Ad esempio Vabbè, grazie, non ti fai niente Ciao Ciao Bella Tudor, volevo farti comunque gli auguri per i... Quanti erano? 300.000 iscritti E sono auguri sinceri di cuore, mi raccomando Come hai visto, comprare gli iscritti funziona E continua così, perché comunque più alzi il budget degli iscritti Più li farai, mi raccomando Alla fine, cioè, sei rimasto un fio di puttana Comunque, auguri per i 250.000 iscritti Cioè, Brocchiato, non so come dirtelo Cioè, mi sento proprio dal cuore, dal profondo del mio cuore Non trovo le parole per dirti quanto tu mi stia sul cazzo, Klaus Cioè, è una persona inutile Oh, i Tudor, ma questi 300.000 iscritti, i due soldi te li sarai pur fatti, no? Ecco, comprati un paio di scarpe Perché l'anno scorso i tatiubi in giro hanno infraditori davvero inguardanti Bene ragazzi, quest'app mi è ben... Ma cosa? Non è il tuo canale? Ma questo? Che stai a fare? È il mio canale, è questo? Eh no, è quello di Klaus E di cazzo adesso? Klaus Salve a tutti i miei amici e soprattutto ciao Klaus Qui a Firenze, quando uno è bravo e simpatico di un metterlo, salvo, si chiama Bucaiolo Tanti auguri, Fava, per i 300.000 iscritti Complimenti ancora per i due primi 73.000 iscritti Continua così Nel caso ho 300, mi hanno sentato E soprattutto bella parte E soprattutto bella parte Sì, quello non so, quello si chiama Tudor. Cioè si chiama Tudor, ha chiamato il canale Klaus. Stiamo a lavorare in autostrada. A fantasia, sì.